Buonasera Barbara, siccome siamo con i tempi un po' contingentati farò una rapida presentazione. Allora, Columbia University, il cognome tradisce origini sarde, però Barbara è una di quelle famose intelligenze sarde e nazionali che sono andate all'estero a impreziosire i centri studi, in questo caso prestigiosi come la Columbia University, e a portare anche un pezzettino di Sardegna all'estero. Quindi Barbara Fahedda, direttore associato dell'Italian Academy for Advanced Studies, professore aggiunto presso il Dipartimento Italiano, e si occupa anche delle relazioni politiche e diplomatiche dell'Italian Academy, e inoltre ha coordinato una rete di studiosi, di intelligenze sarde all'estero, presenti negli Stati Uniti, quindi ha portato appunto un pezzo di Sardegna, l'orgoglio della Sardegna negli Stati Uniti. Oggi è qui a raccontarci questo libro molto bello, A Lost Mediterranean Culture, che parla proprio dei giganti di Monte Prama, quindi io non so se poi sarà coordinata anche, esatto, da Giorgio Murru, l'archeologo Giorgio Murru, che ci aiuterà a dialogare insieme a Barbara. Grazie. Bene, io intanto ti ringrazio Barbara. Grazie a te, grazie a voi. Perché per me essere qui con te a trattare di un argomento così importante, così bello, così trattato da lontano, oseremo dire noi, nel senso che quest'opera nasce nel tuo istituto, nella tua Academy, nasce nella Columbia University a New York City, però ha un'anima, un profilo, un profumo, un progetto insomma, che io conosco molto bene perché è il cavallo di battaglia del nostro presidente della Fondazione Monte Prama, Antoni Murroni, che ha fatto di tutto perché questa vicinanza, questo collegamento, questa vostra conoscenza, ha portato incredibilmente a un risultato enorme. Di questo però ne parliamo dopo. Proviamo a entrare nel libro. Io ho voluto studiarlo, il libro, dopo che questo periodo passato ho presentato un po' qui, un po' là, in Sardegna, il Monte Prama di Raimondo Zucca. Sì, però dico, ok, lo scienziato fa lo scienziato, poi bisogna avere il coraggio, come abbiamo detto più volte anche in questi festival, di cominciare a raccontarlo, di portarlo fuori, quello che è un risultato eccezionale, straordinario, come i nostri giganti. Voi avete chiamato, intitolato il libro assieme a Paolo Carta, che non è qua. Io ho ascoltato la descrizione e la presentazione che ti ha fatto Paola, ma anche Paolo è un bel personaggio, cioè stiamo parlando di un ordinario che lavora in giurisprudenza a Trento, è una persona che ha tenuto lezioni nelle più prestigiose università del mondo, quindi di conseguenza, insomma, è bella questa curatela, no? Cioè, nel senso che introdurre e presentare un'opera di questo tipo e raccogliere poi dei contributi importanti è effettivamente un risultato eccezionale. Come nasce questa idea, Barbara? Allora, intanto grazie a tutti voi che siete qui stasera, fatemi ringraziare gli organizzatori, in particolare la Fondazione Monteprama e il suo presidente. Tutto nasce da un'idea che accarezzavamo Paolo, Carta e Dio già molti anni fa, da quando ci siamo conosciuti alla Columbia, che lui era un visiting professor alla Columbia University, ci siamo incontrati e abbiamo incominciato a ragionare facciamo qualcosa, cerchiamo di fare qualcosa per l'isola, l'isola ovviamente con la I maiuscola è solo la Sardegna e abbiamo lavorato per anni con i nostri neuroni fino a che abbiamo condiviso le nostre idee con degli ottimi partners alla Regione Sardegna. A farla breve abbiamo creato l'unico osservatorio internazionale sui beni culturali della Sardegna all'estero. Abbiamo la fortuna di averlo a New York, in un Ivy League come la Columbia University e i successi sono stati diciamo molto al di sopra delle previsioni. Volevamo iniziare chiaramente alla grande, volevamo inaugurare questo programma sui beni culturali della Sardegna con qualcosa che fosse veramente un'apripista imbattibile e ovviamente Paolo e Dio abbiamo detto i giganti. Avevamo già pronta la conferenza, le colleghe hanno parlato del Covid, avevamo pronta una conferenza per il marzo 2020, capite tutti quanti voi perché la conferenza è stata cancellata. Oramai quasi un po' in preda alla disperazione, Paolo e Dio abbiamo detto ok bisogna reagire, il mondo sta iniziando a reagire, la cultura si continua a fare in qualche modo, usiamo la tecnologia. Quindi i lavori preparatori per la conferenza si sono trasformati in una esibizione digitale. Intanto proviamo, chissà chi la visiterà questa esibizione digitale. Meno di una settimana dal lancio avevamo più di 2500 likes Facebook sui nostri social media. ad oggi, non vi dico neanche dopo un anno, non contiamo più il numero di visitatori, dell'esibizione digitale. A quel punto abbiamo detto si parte con un volume. Raccogliamo gli esperti che avevano già partecipato all'esibizione digitale e vediamo un po' di raccogliere dei saggi da ognuno di loro, più ampi, con materiale fotografico che va da sé di una bellezza incredibile e proviamo a produrre questo volume. Nessuno ha prodotto un volume in inglese sui giganti di Monte Prama che sia così poi anche dettagliato. I meriti vanno tutti agli autori ovviamente dei saggi perché sono i veri esperti. e anche lì la Columbia University Press che era appunto la casa editrice dell'università della Columbia che generalmente non pubblica archeologia perché segue altre aree disciplinari, quando ha visto la faccia sua ha detto ma questo è proprio interessante, raccontaci un po' che cos'è. E da lì è iniziato tutto, ci hanno chiesto di presentare una proposta, il manoscritto, e il manoscritto ha seguito le fasi rigorosissime delle case editrici universitarie, internazionali, ma quando ho letto nei commenti confidenziali, quelli di cui non si sanno gli autori, che Monte Prama può tranquillamente reggere il confronto con l'archeologia dell'Egitto, ho detto bene, allora ci siamo, allora abbiamo fatto centro e quindi là ci siamo messi a lavorare di buzzo buono con Paolo, con gli autori fantastici, tra cui anche qualcuno che appunto purtroppo non c'è più come il professor Guido Clemente. Questo libro che non è in commercio, è in commercio in America, benissimo, però ve lo voglio raccontare brevissimamente, è un bel libro con una bella copertina che è questa, le immagini sono veramente fantastiche alcune, alcune mi portano al cuore perché Nicola Castangia è mio fratello e quindi di conseguenza... Nicola Castangia oramai è il mio preferito, cosa dire? Però sono 200 pagine, 200 pagine divise in 5 capitoli e io i titoli dei capitoli ve li voglio dire, così parliamo anche di quello che fondamentalmente è stato a monte, diciamo, del libro e soprattutto l'impatto che questo può avere appunto nella storia della valorizzazione del patrimonio culturale dei Sardi, in particolare di questa civiltà scomparsa, di questa sorta di momento aureo della civiltà mediterranea che ha prodotto proprio in Sardegna, alla fine della civiltà nuragica, questo grandissimo momento. E allora il primo è Riti d'iniziazione, guerra e morte in Monteprama, e l'ha scritto Raimondo Zucca. Il secondo è Monteprama, scavi, ricerche e restauro, e l'ha curato Emina Usai, che tra l'altro è qui e ringrazio per esserci. La terza è la società sarda all'epoca di Monteprama, una comunità di eroi e guerrieri, del professor Clemente, che anche lui, visto che oggi stiamo ricordando anche momenti di scomparsi all'improvviso, di fatto ha lasciato un vuoto enorme. Oppure il quarto, il paesaggio di Monteprama, curato da Peter van Dommelen con Alfonso Stiglitz, e l'ultimo, il restauro e la conservazione dei giganti di Monteprama, di Roberto Nardi, che è straordinariamente legato ai giganti, perché logicamente è lui che è stato il padre, insomma, del fatto che migliaia e migliaia di frammenti abbiano avuto poi la possibilità di essere stati messi in verticale e oggi rappresentare, come usiamo dire, l'immagine veramente efficace di quello che sono effettivamente i testimoni al più ambiti della civiltà dei sardi nel mondo. Detto questo, volevo farti un'ultima domanda, perché ci hanno invitato all'essenzialità, spero di essere stati assolutamente sintetici, ma spero anche chiari. Noi oggi abbiamo uno dei nostri rappresentanti migliori, proprio al Metropolitan Museum. So che voi, come Italian Academy, avete lavorato tantissimo per questo progetto insieme alla Fondazione Monteprama. So che attorno a questa idea, che è stata di un fascino incredibile, cioè pensare a questo nostro gioiello, a uno dei nostri capolavori, rappresentare un popolo, una nazione, cioè i sardi e la Sardegna, in un luogo che è uno dei massimi, diciamo, luoghi di conoscenza, di studio, e soprattutto di arricchimento di quello che può essere un processo stesso per chi li guarda e per i sardi in una crescita di consapevolezza. Come è vista questa iniziativa e soprattutto come l'hai vissuta tu personalmente? Io molto emotivamente, ovviamente. Al di là dell'interesse culturale c'è, come dice il mio cognome, un interesse anche affettivo, sentimentale, ovviamente. Ma il giorno in cui Anthony Muroni mi ha detto mi piacerebbe portare il gigante negli Stati Uniti, e quindi, certo, sarebbe fantastico. E lì, ovviamente, quando si lavora in un'istituzione universitaria in New York da tanti anni, quasi 20, e uno conosce un po' i contatti giusti, si presenta l'idea, ho chiesto ad Anthony di mandarmi un bel po' di materiale, e ho preparato il pacchetto e sono andata a parlare con il curatore, e lì è iniziato tutto. Gli occhi gli brillavano, c'era poco da dire, ovviamente. E ha detto, ma vediamo, adesso la selezione, i nostri programmi sono già pronti per i prossimi dieci anni. Sapevo già tutto. Ho detto, sì, ma vedi tu se riesce questa pratica, questa proposta ad arrivare sul tavolo, no? Ha passato diversi tavoli, nessuno si era illuso, ovviamente, perché sembrava una cosa piuttosto ambiziosa, però bisogna essere a volte anche ambiziosi quando per le mani si ha un gioiello, no? Direi. Gli occhi invece dei new yorkesi quando incontrano mannedio? È bellissimo. Allora, intanto molti americani che hanno più familiarità magari con le statue, le sculture dei nativi d'America, vedono delle similitudini, soprattutto nei volti, in queste forme così simmetriche, incominciano a dire, ah ma lo sai che anche nelle praterie di questa o quella zona degli Stati Uniti, i nativi hanno delle sculture che ricordano molto questa iconografia dei giganti, e poi sono curiosi e incominciano a dire da dove vengono, ma che cosa c'è in Sardegna, ma da un punto di vista artistico, archeologico, perché soprattutto voi locali ne sentite parlare da tanto tempo e siete molto consapevoli di che cosa siano i giganti di Monte Prama, i nuraghi e l'archeologia della Sardegna. Non diamo per scontato che gli americani sappiano che cosa sono i giganti, che cosa sono i nuraghi, ci sono delle conoscenze a volte molto vaghe, ed era su quello che volevamo il ritorno all'osservatorio che abbiamo alla Columbia sui beni culturali della Sardegna, ed è quella curiosità, quella voglia di captare questa bellissima archeologia, questa iconografia così appealing, come si dice in inglese, sono appassionati. Ma pure mio marito che va a giocare a tennis incontra la signora con la racchetta che gli dice sai che sono andata al Met, c'è una statua italiana dalla Sardegna, ma tu ne sei qualcosa? Fantastico, io credo che questo sia veramente la più bella testimonianza che ci potesse arrivare, perché poi noi di libri possiamo parlare quanto vogliamo, così come potremmo entrare nei contenuti, a me ha colpito molto il fatto che questo è il primo libro sui giganti in inglese, cioè questo è un veicolo di trasmissione di notizie veramente incredibile nel posto giusto, cioè nel luogo in cui fondamentalmente passano milioni di persone, cioè milioni di persone che attraverso quell'immagine, attraverso quegli occhi, attraverso questa dimensione, questa spettacolarizzazione di un mito, può arrivare in maniera incredibile a toccare fasce di utenze assolutamente incredibili, impensabili fino a pochissimo tempo fa. Ti interrompo solo per dire che contemporaneamente a Manet Dual Metropolitan Museum, da noi alla Columbia c'è una bella esibizione fotografica su Tarros, e qua riindico il fantastico Nicola Castangia e la Fondazione Montebrama, con la quale abbiamo creato una collaborazione estremamente fruttuosa, che funziona molto bene, e quindi la gente sa che la Sardegna praticamente sta entrando a New York, diciamo, dalle porte principali, con delle proposte che sono inattaccabili. Da qui abbiamo aperto, diciamo, una porta e speriamo di camminare, diciamo, in questo percorso a lungo. Benissimo, e dopo tutto, tutto quello che abbiamo fatto noi in questi giorni, attraverso il Festival dell'archeologia, attraverso l'archeofilm festival, e questo festival della letteratura archeologica è un altro grande tentativo, quello di riportare la Sardegna al centro del Mediterraneo, ridargli il ruolo che logicamente ha avuto nella costruzione di questa civiltà, che poi è la civiltà che è stata fatta propria dai grandi popoli, da coloro che di fatto hanno avuto la possibilità di conoscere quanto è successo, e queste due cose mi sembra che siano il giusto momento, cioè possiamo anche chiuderla così, con un'ultima domanda, qual è il prossimo progetto che investirà l'Italian Academy? Allora, il primo anno è stato i giganti, quest'anno abbiamo avuto una conferenza e l'esibizione fotografica su Tarros, il prossimo anno lavoreremo su Barumini e la cultura nuragica, e chi più ne ha più ne metta, perché di idee ne stiamo mettendo sul tavolo ancora tante, e quando si finisce di pescare da questi tesori archeologici della Sardegna? Non finiremo mai, sperabilmente, quindi continuiamo con grande entusiasmo da parte nostra e di tutti i partners della Columbia University, e soprattutto con una grande curiosità del pubblico new yorkese e statunitense. Bene Barbara, io ti ringrazio, ti ringrazio anche a nome del pubblico, un documento eccezionale, un momento importantissimo, una sollecitazione mica da poco, che insomma ha interessato finalmente tutto il mondo. Grazie mille, grazie, buona serata. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.